Maglia bianconiera, rettiline d'arrivo, Vincent Baestein, Gran Premio Selle Italia, 7 dicembre 2014, Rossano Veneto, terza prova, Giro d'Italia, ciclocross, 20 metri, 10 metri, 5 metri, Vincent Vincent, che bella vittoria. Sono molto soddisfatto di questo risultato, per me è la terza corsa stagionale ed è la terza vittoria. La gara si è fatta dura fin dall'inizio, il percorso era molto molto pesante e ha creato selezione fin dalle prime curve. Questo è un bene anche per il pubblico che può vedere nei nostri volti lo sforzo del ciclocross. A proposito di pubblico, tanta gente sul percorso che ha fatto il tifo anche per te. Sì, questa è stata una bella sorpresa. Quando sono in Belgio ovviamente sono abituato ad avere il tifo del pubblico, ma qui ho trovato gente straordinaria che incitava tutti i corridori che passavano. Questo è il vero spirito del ciclocross. Gioele, oggi gara durissima, una lezione di ciclocross da parte degli stranieri, ma tu sei stato il migliore degli italiani. Sì, è una gara durissima, sono andati fortissimo. Fin dall'inizio ho provato a tenere il ritmo un po' alto, poi ho preferito stare a ruota, ma andavano troppo forte. È andato via subito un belga, io sono stato insieme all'altro. Fino più o meno a metà gara, poi ho dovuto fare il mio passo perché se no non arrivavo veramente all'arrivo. Gran premio Selle Italia, 7 dicembre 2014, Rossano Veneto, terza prova, Giro d'Italia, ciclocross, 20 metri, 10 metri, 5 metri, Vincent Balstein!